Una nuova apparecchiatura per l'esame della TAC, oltre alla PET-TAC e alla TAC a 64 strati, da pochi mesi operativi al pronto soccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, è infatti appena entrato in funzione anche un nuovissimo tomografo computerizzato. L'apparecchiatura, che adotta una tecnologia di ultima generazione con una risoluzione a 128 strati, è in dotazione all'unità operativa di radiologia. L'investimento complessivo è stato pari a circa un milione di euro. Alla presentazione della nuova TAC, accanto a Chiodi, c'erano il manager della ASLA, Lanciano Vasto Chieti, Francesco Zavattaro, e il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Il giorno dopo aver ricevuto dal ministro Balduzzi il premio di Federsanità Anci, il coraggio di agire, un'ulteriore soddisfazione per il governatore e commissario d'acta per la sanità Gianni Chiodi, forte della riduzione delle liste d'attesa, è un servizio di qualità nonostante il netto abbattimento dei costi rispetto al 2007. Noi stiamo dimostrando che il sistema sanitario pubblico di stampo universalistico è sostenibile, cioè non è destinato inevitabilmente al default. può essere sostenuto, si può fare buona sanità con i conti in ordine e questo ce lo dimostrano in altra parte le regioni delle Marche in su. Se fosse vero che chi spende di più ha una migliore sanità, le migliori sanità dovrebbero trovarsi in Calabria, in Sicilia, in Campania, in Molise, in Puglia, nell'Azio, invece come vedete si trovano in altre regioni dove sono stati molto attenti ai conti sanitari. L'Abruzzo è oggi una regione di cui ha ricevuto un premio nazionale di fede a sanità, sono stati 200.000 email che sono stati mandati, 70.000 risposte, guardate un po', diciamo a Borghezio che l'Abruzzo non è più un peso per gli italiani, come diceva Borghezio, bensì è una regione che viene premiata a livello nazionale per aver migliorato, aver eliminato sprechi e privilegi, ma ancora ce ne sono tanti da portare avanti, e aver assicurato un miglioramento del servizio sanitario. Quanto è migliorato? La regione italiana sarà, l'Abruzzo sarà la nona regione italiana nel 2013 ad assicurare i livelli essenziali di assistenza, oggi ne sono solo 8, faccio questo pronostico e che è una sorta di promessa, come quando dissi che avremmo ridotto le tasse e oggi le stiamo riducendo, che l'Abruzzo sarà la nona regione italiana ad assicurare i livelli essenziali di assistenza, questo vuol dire che prima non lo faceva e l'abbiamo fatto con l'equilibrio sanitario. Io penso che la strada sia quella buona, questo ci permette di investire in macchinari, ci permette di investire in professionalità, i benefici si verranno nel medio termine, perché? Perché i transatlantici girano col tempo, non è che sono un matoscafo che girano velocemente.